Buttare ciò, buttare ciò, buttare ciò, buttare ciò Intanto leggo, leggo Bell'effetto quello delle armonizzazioni, vero? Allora in realtà questo lo uso spesso ma non sono voci armonizzate Questi sono dei double, c'ha un'ottava sotto E un'ottava sopra la voce principale In realtà poi con invece questa funzione qua Ho messo un topo adesso Si possono anche inserire le armonizzazioni Quindi una terza o una quinta sopra sotto Il problema come dicevo prima Max Come dicevo prima in generale in realtà parlando con Max delle tonalità dei pezzi È che è un aggeggino questo fantastico Però non è super preciso se non ha una sorgente di strumentazione Con gli accordi, voglio dire Tu puoi collegare una chitarra, un pianoforte, quello che ti pare degli accordi O via midi, una base midi E lui rileva effettivamente le note che ci sono nell'accordo Quindi così le armonizzazioni vengono sicuro belle Se invece inserisco io manualmente Anche se do la tonalità giusta Non è detto, hai capito? Una gioia in questa quarantena Hai visto? Massimo invece mi dice Pietra leccese che si lavora con scalpello e svariati strumenti Fantastico Una pietra calcarea marnose Marnose Che significa? Guarda scusami Facciamo di tutto da colonne in pietra, cammini e tanto altro Che meraviglia Che meraviglia Sai che io non ho il camino perché non l'ho voluto Più che altro, cioè non lo so Io ho una casa in legno Per cui ho detto magari se va a fuoco non mi piace Però sono previsti I cammini anche nelle case in legno Ma adesso sai che un po' me ne pento Perché mi piacerebbe avere un camino Chissà mai che possa farmelo Proprio in pietra Nella vostra pietra Che è in pietra leccese Fantastico È carino soprattutto se l'usi Parlando invece dell'harmonizer Diciamo quando stai facendo note basse E soffiate Provo un secondo Allora io lo uso Il doubler Soprattutto quando ci sono magari i ritornelli Per cui rinforzi un po' I ritornelli Poi qua in tesi senza senso Sono tutti dei ritornelli a caso Però insomma Lo scopo è quello di dare un po' di corpo in più Diciamo, no? Vabbè Chiuso il capitolo Il capitolo per forma di E E io dovrò farmi sponsorizzare Prima o poi Nel frattempo Io risetterai un attimo Cambiamo lo sfondo E liberare dei trori Oribi Oribi Però cambiamo prima il titolo Lontano timoroso Piantare dietro invece il lo Dove è zuccherato Nascituro Zoologico Il bistro Pacioccone Qui sia Pacioccone Cacca Che mi piace sempre Tantissimo E mi inchiodo sempre Su pacioccone Qui sia Dopo dirigere molto Posso usare pacioccone tutte le volte Difatti Gli la il ma Liquido ognuna gracidante Variabile poco Lo benestante Ogni tanto il Egli Scandito E Gli ne grillo Talpa Fissare Fuggire Imparare Presto Resistere Stesso bene Offendere Alcuno però Perduto Forte poco Pure il Filante però Alquanto Dietro chi Nostre Riconoscere Serpente Dai Dai Poche banchiere Dopo siccome dunque Ella Personalizziamo Randomizziamo Randomizziamo Cambia titolo Le vestire Le quantunque Il lo lo Sono Veramente Vera Buttare ciò Buttiamo ciò Cominciamo buttando ciò Questo testo è Super stringato Frasi super corte Sto aggiungendo Un po' di strofe Perché secondo me Allora Intanto Detto questo Detto questo Questo Come No Eh sì Ad est Fidelis Facciamo adesso Ma ti sembra Dura l'avventura Io non ho sentito Com'è questa base Ma faccio questa Oh mamma Non voglio sapere Com'è Perché Come Quando Aggiungo una strofa Per sicurezza Ma potrei segare La base Molto Ma no Troppe strofe Vero Vabbè Vado Dicevo Vado Che pezzo Era questo Che pezzo Che pezzo Buttare ciò, buttare ciò, buttare ciò, buttare ciò, buttare ciò. Il ciò suonare, glielo insistere e le diffondere. Sentire e pagare, qualcosa in lì, buttare ciò, qualcosa in lì, buttare ciò. Grazie Max. Qualcosa in lì, buttare ciò, buttare ciò, buttare ciò. Rientere allò, qui che sia in lì, buttare ciò. Oppendere e scoprire. Buttare ciò, buttare ciò, guardare là, succedere. E buttare ciò, buttare là, succedere. Guardare là, succedere. Succedere. Guardare là. Succedere. Guardare là. Succedere. 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 Oh, oh. Grazie a tutti